Benvenuti alle teorie di Darwin, i protagonisti raccontano e si raccontano. Mio ospite è una persona per me cara straordinaria, giornalista, scrittore, inviato di guerra, direttore dell'indice dei libri del mese, Mimmo Candito. Ciao Mimmo, grazie davvero. E noi adesso vedremo insieme delle fotografie che ti riguardano e le commenteremo di volta in volta insieme. Adesso cominciamo dalla prima fotografia. Ecco, adesso la vediamo. Questa è Genova. Sena. Ecco, Mimmo, tu sei nato a Reggio Calabria, però negli anni 60 vai a Genova, cominci a scrivere per il lavoro, che è stato anche il quotidiano di Sandro Pertini. Ti occupi, se non sbaglio, di cultura e di cinema, eccetera. Ecco, come nasce la passione per il giornalismo? Una volta disse a mia madre che volevo fare il giornalista. e mi disse, ma perché non fai un lavoro serio, un lavoro vero? Nasce dall'idea, nasce per la passione del cinema. Cioè il mio progetto iniziale era il critico cinematografico. Leggevo tutto di cinema, mi appassionavo, conoscevo tutto dei teorici del cinema, italiani e stranieri naturalmente. Poi ho iniziato così, ho iniziato sostanzialmente come critico cinematografico. Poi tu sai, tu sei giornalista come me, sai com'è l'evoluzione del mestiere, le occasioni ti portano magari su percorsi e itinerari che non immaginavi si sarebbero realizzati così. Un giorno io scrivevo per il lavoro, un giorno mi chiamarono dalla stampa, perché leggevano quello che io scrivevo sul lavoro, penso un po'. Io scrivevo per il lavoro, facevo allora l'impiegato comunale per aiutare la famiglia e di sera, di notte andavo al giornale a fare, si diceva allora l'abusivo, cioè di quello che fa il giornalista senza guadagnare una lira. Però scrivevo, mi faceva scrivere tanto. Alla stampa avevano letto quello che scrivevo, chissà perché ebbero questa per me illuminazione di chiamarmi e di dirmi se volevo essere assunto alla stampa, che oggi è un'occasione che per un giornalista sarebbe straordinaria, per i ragazzi è difficile oggi l'accesso al mestiere, lo vedo all'università, lo vedo nei master di giornalismo. E io con la presunzione che si può avere da ragazzi dissi vengo soltanto se mi fate viaggiare, perché io amo Genova, sono nato a Reggio Calabria, Reggio è lontana, però Genova mi ricordo un po' simbolicamente la mia città, città di mare, città in collina, città di venti, di colori forti, di taglionetto. Di partenze. E di partenze anche, e di orizzonti, di orizzonti aperti. Vengo se mi fate viaggiare. Convinto tutto smato che mi avevano dato un calcio nel sedere, direi ma chi sei, non sei nessuno perché. Invece dopo una settimana tornai giù a Genoa, da Torino, mi pagarono il biglietto del treno andato in ritorno a seconda classe, e dopo una settimana mi chiamarono, mi dissi, c'è il diattore Ronchei che vuole conoscerla. Arrivai su, in effetti non mi fecero viaggiare da subito, perché dissero che io avevo uno stile troppo personale, e che invece il giornale La Stampa era un giornale all'inglese, molto fattuale, con un taglio di distacco rispetto al flusso delle informazioni. E quindi per quasi un anno restai in redazione a sostanzialmente a non far nulla. Tanto che adesso posso dirlo, tornai a collaborare sotto falso nome con il mio vecchio giornale di Genova, e collaboravo... Qual è il falso nome? Regino Bristo. Ah, Regino. Regino perché ti ricordo, però con una G. E Bristo perché ti ricordi il fumetto Bristo, Regino al Bristo, che è questo impiegato poveraccio sempre attartassato, io facevo l'impiegato, e però poi collaboravo anche col manifesto sotto pseudonimo o sotto una sigla soltanto, perché avevo voglia di scrivere, non scrivevo nulla. Mi facevano soltanto leggere i giornali internazionali, dovevo leggere e sfogliare i giornali. Times, l'International Tribune, Le Monde, Figueroa, Leggi e gli Settimanali. Perché? Perché Ronchei voleva, mentre io mi abituavo alla dimensione internazionale delle notizie, voleva che tirassi fuori l'ips dixit, cioè alcune frasi che i personaggi più celibili del tempo dicevano. Allora io ne ricavavo ogni giorno una decina di frasi, verso le otto e mezza andavo nella direzione, mi sedevo lì e discutevamo sulle frasi. E lui ne sceglieva sei o sette, e ogni giorno pubblicavamo questa piccola rubrica, hanno detto, è il mio lavoro. Poi all'improvviso ci fu un viaggio in America, ma penso un po' per una regione la più banale di tutte. Si inaugurava un volo Milano-Boston, un volo diretto, un viaggio di quattro giorni. Io presi la valigia, mi misi il mio abitino elegante, poi dentro la valigia misi uno zaino, quattro libri e un maglione. Quando arriviamo lì, feci il mio lavoro da Boston, poi affidai la mia valigia all'ufficio stampa dell'Italia, sempre cortesia, rimandata a Torino, col mio zaino, col mio maglione e i miei libri, e una bandana in testa, perché allora avevo i capelli lunghi, mi misi a viaggiare all'America Latina dal basso, cioè con l'autostop, il Greyhound, girando, cercando di capire l'America Latina. Fu un viaggio che era di quattro giorni in partenza, diventò di 59 giorni, perché misi insieme tutte le ferie che avevo fatto, tutte le corte utilizzate. E da lì è cominciata una carriera. Adesso noi guardiamo in una seconda fotografia, che è un'immagine della guerra in Iraq. Tu sei stato, e poi 35 anni, inviato di guerra. Io ti chiedo scusa perché l'argomento meriterebbe molto più tempo, molto più spazio, però ci tengo a parlarne. Dell'uranio impoverito. Tu hai pagato un prezzo alto al mestiere, al coraggio di andare, di vedere, di raccontare, con un tumore, con un polmone in meno. E non sai ancora dove l'hai preso. Sei in Afghanistan, in Iraq, in Somalia, eccetera. Tra l'altro io ho letto che sono morti 110 mila, se non sbaglio, soldati americani che hanno preso parte... 11 mila, scusami. 11 mila, perdonami. Soldati americani che hanno preso parte alla guerra del Golfo del 1991. E non conosciamo le vittime, ovviamente come sempre accade, civili. Ecco, Mimmo, le tue sofferenze, possono portare però a qualcosa, le tue denunce? Ma io credo che bisogna avere sempre la forza di uscire dai dati personali. Perché io ricordo sempre, tu come me hai letto Lord Jim quando eri ragazzo. Lord Jim sa che la nave deve affondare e sa che quelli che sono a bordo, così immagina, moriranno tutti. Ed è tentato di arrestare con loro. e però poi la forza della vita, i compagni che lo chiamano, lo fanno saltare nella scialuppa, la scialuppa va via e la nave è destinata ad affondare. Poi in realtà, come sappiamo, non affonderà, però è destinata ad affondare, moriranno. Il corrispondente di guerra è un po' come Lord Jim, che sta accanto a coloro che moriranno e gli sa che moriranno. Molti di loro non muoiono, ma molti di loro muoiono, militari o civili. e però ci passa accanto e se ne va. Poi andrà in albergo, poi andrà a casa sua e quindi ha una vita altra, lasciandosi alle spalle, non voglio dire quel desiderio di morte, però quell'ombra, quel profumo, quell'odore amaro di morte che sempre accompagna le storie dei corrispondenti di guerra. Quindi, uscendo fuori dal dato personale, non vi è dubbio che ciò che può contare, ciò che vale dell'esperienza che può fare un corrispondente di guerra è sostanzialmente l'assunzione forte della responsabilità nel tentare di trovare il filo della realtà autentica. Non voglio dire il filo della verità, della realtà autentica. Io credo che nessuno come i corrispondenti di guerra tu fai il mio stesso lavoro anche se in ambiti diversi. Sappiamo quanto sia difficile sfuggire ai condizionamenti, poter dare un racconto autentico della realtà. Ecco, questo che ci accompagna in ogni percorso, in guerra è particolarmente drammatico e vivo. E allora, vivendo accanto a chi comunque è destinato a morire, ne ricavi il dovere dell'assunzione della responsabilità di fare quanto più possibile perché tu possa raccontare cosa c'è dietro l'immagine della guerra, soprattutto, siamo in televisione, cosa c'è dietro lo spettacolo nel quale si consuma sempre più la guerra. Io credo che questo poi ogni corrispondente di guerra ricava. Qualcuno lo dice o qualcuno lo dice? Qualcuno trova una tangente dalla quale scappare attraverso il cinismo. Però diceva Capucinski non si può fare questo mestiere se non si ha un forte senso di isoli. A parte la fatica dormire per terra in mezzo agli scarafaggi e ai topi, affrontare problemi pesantissimi, mangiare, bere, robe impossibili. E questa è una parte della retorica. Poi c'è anche la vita d'albergo e non è tutto così. Però certamente bisogna essere, avere uno spirito di adattamento particolare. Ma quello che conta, diceva Capucinski, è avere un forte senso di compassione, di passione con, di empatia, di solidarietà con loro, con coloro che la guerra la vivono e la fanno. Tu passi. E ricordiamo Capucinski che è stato un grande cronista polacco che ha raccontato tutto il mondo, come hai fatto tu. Tra l'altro ti voglio ricordare un tuo libro che riporta il di guerra storia di un giornalismo pericoloso e da Hemingway a Internet Baldini Castoldi Dalai editore. Grazie a tutti.